Il presidente della regione, Vito De Filippo, e l'assessore alla formazione, Rosa Mastro Simone, hanno formulato i propri auguri agli studenti lucani per il nuovo anno scolastico 2011-2012. In questi giorni, per voi, ha affermato il presidente De Filippo rivolgendosi agli studenti, c'è uno di quegli eventi che segna l'età della giovinezza, l'inizio di un anno di studi. E per questo un giorno normale assume un valore tutto particolare. La scuola è una palestra eccelsa e l'augurio che De Filippo elargisce ai ragazzi è quello di sfruttarne a pieno le potenzialità per aiutare l'Italia ad avere un futuro più sereno, magari con un carattere più lucano. Siamo in una stagione difficile e ancora più complicata per le piccole realtà come la Basilicata, ha dichiarato l'assessore Mastro Simone. A voi, ragazzi e ragazze, l'onere e l'onore di essere i protagonisti di questo tempo. Nelle vostre mani la possibilità di superare questa difficile fase, di costruire un nuovo giorno in cui il domani non sia più uguale a questo ieri, fatto di nuovi problemi e nuove paure.